Quello dei nuovi poveri e dei senza casa sembra essere diventato un movimento strutturato. Clociare e intere famiglie palermitane si sono riunite per ottenere un tetto sotto cui vivere e per sconfiggere gli stenti di questo 2014. Delle vere e proprie missioni, un solo obiettivo, occupare edifici abbandonati da anni. Dopo il gruppo di otto famiglie, diventate 60 in poche settimane, che occupò l'ex istituto delle Suore del Sacro Cuore, la disperazione ha spinto ieri pomeriggio 25 famiglie, tra palermitani, etiopi ed eritrei, a violare ed occupare definitivamente l'ex istituto religioso femminile Figlie di San Giuseppe, proprio in via Oberdan alla Zisa, a due passi da quello occupato precedentemente. Al loro interno una struttura ben definita. C'è chi cucina, alcuni sono riusciti a riattivare i contatori elettrici ed altri stanno studiando come riportare l'acqua. Le risorse dello Stato non devono andare alle opere inutili, ma devono servire per garantire casa, reddito e dignità, ha detto Emiliano Spera, portavoce del Comitato Prendo Casa, che ha firmato quest'ultima occupazione. Nel frattempo è già scattata la richiesta delle Suore proprietarie dell'edificio di far sì che vengano recuperati tutti gli oggetti di valore presenti all'interno dell'istituto.